Al terzo posto l'atleta numero 49 Cufano Bruno, un applauso anche a quest'atleta, vince la categoria il numero 106 del russo Maurizio. Al secondo posto il numero 27 Ciglione Antonino. Ok ragazzi restringete un po', facciamo anche la foto. Date la mano a Francesco così me la alza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.